Sono Giorgia, faccio parte del progetto di Yurt Paradise, siamo sulle colline sopra Faenza, a due passi dalla Toscana, a due passi dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, in un posto magico con una sorgente naturale, il vulcano più piccolo d'Europa, che è una fuoriuscita di gas naturale sempre incendiato durante tutto l'anno, il vento e tutti gli elementi sono dalla nostra parte, qui abbiamo posizionato per ora sette Yurte, dove non viviamo in maniera stabile per un po' di problemi logistici, il nostro desiderio è quello di realizzare un vero e proprio ecovillaggio, io e il mio compagno Gabriele siamo architetti e abbiamo progettato, almeno messo su carta, l'impostazione di quello che sarà l'ecovillaggio, l'idea è quella di realizzare uno spazio autosufficiente, ecosostenibile, aperto a tutti, tutti quelli che vorranno poi indirettarsi in un percorso di crescita personale, che è il percorso che abbiamo intrapreso noi soci fondatori, al momento siamo in 11, la questione è un po' lenta perché ci servono un po' di risorse, quindi chiunque vuole offrire delle risorse noi siamo ben disponibili, accettando, al momento però se volete potete venire a fare una visita allo spazio che c'è ora, soggiornare in Yurta e godervi l'emozione di questo spazio meraviglioso, in attesa di nuovi sviluppi, spero molto brevi, grazie a tutti. Scusate, mi sono dimenticata una cosa, se volete qualunque tipo di informazione www.yurtparadise.net Trovate tutti i nostri contatti, il progetto, come siamo messi allo stato attuale e il futuro. Grazie.